No, noi non lo stiamo dicendo a noi stessi perché noi abbiamo la pretesa di avere un punto di vista ma noi questo punto di vista dentro una coalizione dove abbiamo idee diverse l'abbiamo sempre fatto valere No, un attimo solo, mi faccio finire perché questa è una cosa molto importante l'abbiamo sempre fatto valere sapendo che si procede solo per mediazioni Noi fino a una settimana fa ci si diceva che eravamo subalterni ma non eravamo subalterni, sapevamo che qui o si media o si rimane fermi nel momento in cui infatti è saltato lo spirito di mediazione siamo di nuovo fermi Vorrei però ricordare che voi avevate detto di Conte che era il punto di riferimento massimo, molto importante di voi progressisti Il miglior volto Quindi voglio dire adesso vi trovate per forza di cosa a scegliere con Renzi che continua a canoneggiare la presidenza del Consiglio e quindi dovrete schierarvi in modo molto netto, molto aperto, molto solidario Noi ci schieriamo e ci adopereremo perché si trovi un punto di equilibrio e diciamo con molta nettezza, su questo bisogna essere chiari che nel momento in cui l'Italia si trova esposta nello scenario internazionale le dichiarazioni che Renzi ha fatto sono dichiarazioni secondo me assolutamente sbagliate e pericolose Grazie